Ciao a tutti, allora mi stavo truccando e ho detto, sono al correttore come vedete, e ho detto voglio provare la nuova CC Cream che ho preso di Herborian. Adesso vado a stendere il correttore, questo qua, con la spugnetta e poi lo proviamo. Allora, io solitamente di Herborian uso la BB Cream e ve l'avevo già recensita quando ho iniziato a usarla, quindi un annetto fa, che è questa qua, che è meravigliosa, sempre nella colorazione Claire, quindi quella più chiara, sì, non ricordo, sì, giusto, giusto, perché si è cancellata, ma è la colorazione Nude, scusatemi, ho sbagliato. Di questa qua ho preso la Claire, che comunque dovrebbe corrispondere alla Nude, e appunto questa qua la differenza dovrebbe essere che questa appunto ha una coprenza maggiore e poi appunto è una BB Cream, quindi è più un fondo rispetto a una crema, mentre questa qua dovrebbe proprio essere una crema bianca, che quando andate a spalmarla ha delle micro perline all'interno di colori che si vanno a espandere. Io in passato ne avevo già utilizzate tanti di questi prodotti, per esempio di altri brand, come quella di L'Oreal, che secondo me, tra i brand venduti anche a supermercato, è la migliore, provatela se non l'avete provata, perché la Sissy Cream di L'Oreal per me è fantastica. Quindi vado a provarle, questa qua di Herborian, appunto questo brand coreano. Io da quando uso questa BB Cream con il fondo tinta per tutti i giorni, non ho più brufoli, no, quindi niente. È vero che la mia skin care è migliorata, vi ho fatto anche il video, quindi se vi interessa andate a vedere. Io l'applico così, perché non ho idea di quanto copre tutto. Vi vedo, spalmandola con le dita, perché mi sembra proprio una crema. Oddio, che profumo! Allora, il profumo mi ricorda la crema nivea o l'oleocrema della nonna, per intenderci. Buonissimo! Voglio metterla anche qua, perché io ho un sacco di discromie qua sopra. Allora, forse la prossima volta è meglio mettere prima il correttore, cioè, è meglio mettere prima questo e poi il correttore, però la coperenza è buona per essere una Sissy Cream. E l'applicherò col pennello, perché adesso mi devo lavarle le mani. Però, guardate che bello l'effetto. È l'effetto di fondotinta alla fine, molto leggero. Cioè, ne ho provati di brand che fanno fondotinta così leggeri. Uniforma bene, idrata, mi piace. Allora, ho rimesso i correttori sotto l'occhiaia. La differenza, appunto, con la BB è che questa qua, essendo più una crema, forse vi consiglio di metterla proprio come primo step e poi mettere i correttori. Adesso poi andrò a fissarla e a toccarmi. Però l'effetto mi piace, perché comunque mi ha coperto le discromie, ha una buona coprenza, perché il colore c'era. Ha un ottimo profumo, una bella idratazione, perché la pelle la sento bella morbida, idratata, non appiccicosa. Quindi va bene anche in questo periodo super affuoso. Sia questa che la BB, ve la consiglio. Insomma, CC Cream approvata. Grazie per avermi seguita. Alla prossima, ciao.